Come ci si prepara a questa guerra fredda, nelle condizioni in cui ci siamo detti, con un'Europa che... Allora, mettiamo qualche punto su lì. Come vada a finire? Non lo sappiamo. Quanto tempo ci voglia? Non lo sappiamo. Una cosa che invece abbiamo appreso domenica scorsa dalle aperture di Zelensky è che Zelensky, di farsi distruggere il paese, non ha proprio voglia. E quindi cercherà di evitare che la prospettiva della guerra lunga diventi quella che poi va a prevalere. Però il punto è, e qui mi riallaccio a una discussione che è stata fatta nella parte precedente di trasmissione, il problema non è pace o guerra. Il problema è quale tipo di pace. Tutte le guerre si concludono con una pace. Il problema è che la pace è un determinato assetto finale che consegue alla cessazione delle ostilità. Ed è su quello che stiamo discutendo. La prova di forza che avviene sul terreno è funzionale alla determinazione del risultato finale, della pace che si instaura dopo la fine della guerra. La diplomazia ha un ruolo, ma può soltanto accompagnare quello che accade sul campo. E di questo bisogna essere consapevoli. Per cui il discorso di armare gli ucraini, evidentemente, a che cosa serve? Serve a permettere agli ucraini di arrivare a una pace che è più conforme ai loro interessi che non agli interessi della federazione russa che ha invaso e aggredito. Questo è un po' il senso. Allora, voglio che risponda su questo, professor Revelli. Poi però arrivo anche a Maschio, perché capire da lui... C'è una precisazione pure che è importante da fare, altrimenti magari finisce che nella trasmissione non la faccio. Il discorso dell'aumento delle spese militari italiane al 2% del PIL non è una decisione del governo. È stato un voto del Parlamento su un ordine del giorno. Quindi è il Parlamento, l'insieme delle forze politiche rappresentate nel Parlamento, che ha preso questa decisione impegnando il governo a fare questo. Quindi è una cosa più ampia. Questo è importante, perché guarda le cose che ha detto Conte. È possibile che qui non si può avere una visione divergente a quella del grande capo Draghi che decide e fa? Quindi in realtà Draghi sta eseguendo una cosa già decisa e varata al Parlamento. Seguirà Draghi e i governi che seguiranno, se non interverranno altri atti di indirizzo parlamentari in senso differente, questo faranno dare corso agli ordini del giorno che sono stati approvati prima alla Camera e poi al Senato, di iniziativa parlamentare ovviamente. Allora, torniamo però un attimo.